ciao sono mauro simone docente di recitazione e vice direttore della bsmt di bologna sicuramente la disponibilità al lavoro quanta disponibilità c'è nel mettersi in discussione è un'altra cosa fondamentale secondo me per affrontare questo percorso e la determinazione che serve per studiare abbiate coraggio non abbiate paura arrivate e mostrateci in totale libertà tutto il vostro talento e tutta la vostra passione tutto il fuoco che c'è dentro vi aspettiamo in bsmt